Questo programma è offerto da... Amici del Motorsport, rieccoci qui pronti e carichi per raccontarvi una puntata fatta di sicura passione. Oggi vi sveleremo tutto ciò che ci riserverà il 2019 targato Time Attack Italia. Noi abbiamo grandi ospiti, però prima devo andare a presentare quella bellezza racing di Chiara Giuffrida. Ciao Riccardo e buonasera a tutti. Sai perché è bellezza racing oggi? Perché oggi si parla tanto di racing. Tanto di racing, tanto di corse, come sempre qui. Non può di certo mancare con noi il promotore e l'organizzatore naturalmente di questo Time Attack Italia che si sta preparando per una nuova avventurosa stagione. È con noi Andrea Scorrano. Ciao. Buonasera. Ben ritrovato. Grazie. Hai lavorato quest'inverno? Eh, decisamente dai. Abbastanza, adesso ci svelerai tutto. Al suo fianco, scusate, non proprio al suo fianco, ma due sedie dopo abbiamo il campione 2018 appunto della serie targata Time Attack Italia nella classifica assoluta, Cersei Zeli. Ciao Cersei. Ciao, buonasera a tutti. E poi al centro dei nostri ospiti, chi è arrivato in seconda posizione nella categoria Pro 2VD, tra l'altro a pari merito, Alan Simoni. Ciao Alan. Buonasera. Ciao. Andrea, dopo un 2018 pieno di successi per il Time Attack Italia, siamo pronti per pregustare un 2019 pieno di news. Ma vogliamo fare prima un bilancio su questa stagione appena trascorsa? Eh, certamente. Diciamo che non potevamo aspettarci di meglio. Abbiamo fatto sei eventi nei migliori ottodomi italiani, abbiamo sempre fatto il pieno, anzi abbiamo dovuto stare attenti alle iscrizioni e questo è molto importante perché la nostra è un'attività comunque che come mission ha il costo basso di iscrizione e quindi dobbiamo sempre fare i conti con i numeri che devono essere alti. Lo spettacolo è stato fantastico, ci sono alcune classi che si sono decise all'ultima gara, è stato davvero un anno emozionante e pieno di sorprese. Bene, infatti l'abbiamo vissuto noi in prima linea anche con le nostre telecamere, c'è da dire che veramente è stata un'annata fatta di passione, veramente. A fine, scusa, o meglio, a inizio 2019 ci sono state le premiazioni che vanno a celebrare un po' quello che è stato tutto il bel lavoro che avete fatto, all'autodromo Daniel Bonara di Franciacorta. Sì, esattamente, come anche nel 2017 le premiazioni ho preferito farle post-gara in un appuntamento all'autodromo di Franciacorta a Brescia e abbiamo offerto un aperitivo a tutti, abbiamo fatto le premiazioni, l'abbiamo tardato parecchio quest'anno perché l'abbiamo fatto a inizio 2019, ma apposta perché le novità a livello sportivo erano tante, andavano spiegate e ho voluto un appuntamento per farlo. Stiamo vedendo adesso proprio delle immagini di questa bella celebrazione. Infatti non solo premiazioni Riccardo, ma nell'occasione il Time Attack Italia ha svelato quelle che saranno le news per il 2019. Andrea, ce ne vuoi dire qualcuna? Allora, a livello diciamo regolamentare inteso come appunto regolamento e divisione per classi in realtà non tantissimo perché il regolamento scade a fine 2019. Abbiamo aggiunto alcune cose che dovevano essere aggiunte, tipo abbiamo aggiunto una nuova classe Extreme NA che è la categoria regina però dedicata solamente a vetture aspirate che non possono competere ancora con le vetture turbo. Abbiamo modificato la divisione nelle classi Pro, che sono le classi Racing ma con gomma semi-sleak. Quest'anno era 4WD, 2WD. In realtà l'anno prossimo sarà Turbo e aspirate che è un po' più bilanciata diciamo. Poi stiamo lavorando sulle classi stradali. Nel 2018 abbiamo visto che la classe supercar era molto popolata e da lì è venuta l'idea di creare un format anche dedicato solamente alle supercar e dividere in classi. Quindi quest'anno lavoreremo molto su questo e ultima modifica, inseriremo quest'anno la classe Clubman che a livello sperimentale verrà aperta per chi vuole venire in pista a divertirsi spendendo poco, quindi con auto al massimo fino a 1.800 aspirato. Insomma ce n'è per tutti i gusti. Eh sì, e queste sono poche modifiche. Insomma ci avevi detto che quest'inverno hai lavorato e così è oggi? Sì, ho lavorato tanto anche a livello sportivo, però per il momento ne parleremo magari dopo la prima gara. Esatto. Allora, come detto oggi nei nostri studi televisivi di Sport Italia con grande onore ospitiamo il campione appunto nella categoria assoluta 2018, Cerse Zeli, che a bordo della sua Mitsubishi Lancer 10 ha dominato la categoria. Sì, è stata una bellissima stagione, impegnativa, è andata a gonfio e vere. La vittoria del campionato italiano, su sei gare, praticamente cinque il primo posto e un secondo posto, abbiamo fatto il record della pista per questo tipo di giri di vettura. Chiara, gli chiediamo un po' di parlarci nel dettaglio delle varie competizioni. Esatto, innanzitutto Riccardo volevamo fare i complimenti a Cerse per la sua vittoria, ma vogliamo proprio sapere qualche informazione in più sulla tua straordinaria annata. Partita da Monza, con una vittoria, lì è proprio l'esordio della vettura è stato, diciamo che non abbiamo avuto grandi problemi, la stagione è proseguita sempre a gonfio e vele, contento, contento anche per tutto il team, piccolo team, ma contenti tutti quanti. Ecco, stiamo vedendo adesso, abbiamo appena visto la tua vettura. Noi qui in studio, ma anche sicuramente il pubblico che ci segue da casa, sarà sicuramente curioso di sapere un po' quali sono gli aspetti tecnici di questo bolide. Sì, è una Mitsubishi Evo 10, su base talaio originale, praticamente, con una gabbia FIA, motore di serie, diciamo che non viene fatto particolari modifiche tecniche, per cui è un blocco originale incamiciato, tutto forgiato, un kit turbo dedicato e un cambio sequenziale. Si cerca di tenere la vettura, praticamente il più fedele aspetto della vettura, anche sia meccanico che estetico, e questa è un po' la prerogativa delle macchine da Time Attack, per cui non si va a cercare telai tubolari o cose particolari, che porta fuori da quello che è la disciplina reale del Time Attack. Io sono curiosa di sapere quanto tempo ci vuole per realizzare un bolide di questa tipologia. Vanno diversi mesi, la prima vettura abbiamo messo circa tre mesi, a tempo abbastanza pieno, che poi abbiamo una seconda vettura gemella, che è quella che è stata portata al Mondiale, quello l'abbiamo realizzato con tempi molto stressanti, circa in un mese e mezzo, perché il container doveva partire, per cui macchina finita, impacchettata, mai provata. È stata un po' la difficoltà di quello, però è una grande soddisfazione. In Australia avete fatto la finale mondiale, giusto? Sì, siamo andati al Mondiale, sono andato terzo, è andata molto bene, per quello che era un po' la prerogativa di arrivare e vedere un po' cosa succedeva. Per cui un terzo posto è sicuramente bello, soddisfacente, molto per tutti, perché è stata una cosa al di fuori di quello che era la realtà italiana. Beh, insomma, Andrea, ospiti piloti sicuramente di un certo calibro, quindi. Certamente, sì, sì, li ho visti crescere, tra l'altro. Quindi questo è anche un valore aggiunto per il tuo campionato, ma anche per chi viene a partecipare, perché, insomma, si sfida veramente con... Esattamente, ogni anno li vedi crescere, ed è la soddisfazione più grande, è un po' poi quello per cui, quello che ti motiva ad andare avanti, vedere comunque sia lo sviluppo delle persone e delle vetture. Questa è una bella cosa. Il 2019, Cersei è alle porte, state affinando ancora qualcosa alla tua vettura o rimarrà tutto invariato? Questa è anche un po' una provocazione che vogliamo lanciare ai tuoi diretti rivali. Stonk. Nuovi accorgimenti per quello che riguarda il motore, i componenti interni, che abbiamo avuto dei piccoli problemini, per cui di affidabilità, è normale che dovevano capitare. Diciamo così, cerchiamo appunto miglioria sul lato motore e nuove sospensioni. Il Laiole è sempre lo stesso, classico MacPherson Multilink della Mitsubishi, ma una nuova sospensione che sarà un po' diversa perché è una sospensione attiva. Cersei, chi sono stati i tuoi avversari più agguerriti? Sicuramente il secondo e il terzo, per cui Piero Randazzo e Andrea Gazzetti, i piloti più veloci della stagione. Tra l'altro ricordiamo che Gazzetti aveva vinto nel 2017, quindi gli hai portato via il titolo. Ecco, ma abbiamo visto la tua vettura in più situazioni e in più fasi di gara, ma sono curioso di sapere una cosa. A Monza, una vettura del genere, quanti chilometri di orari raggiunge? Beh, è limitata un po' dall'aerodinamica. Questo sicuramente frena. Quando non avevo l'aerodinamica, circa tre quarti rettilineo, si raggiungeva già la velocità massima, che era di 2,75, per cui si portava il limitatore fino al punto di staccata. Adesso con l'aerodinamica non si arriva a quella velocità, si è quasi a 2,70, un po' meno prima della staccata, per cui l'aerodinamica frena. Però porta sicuramente un vantaggio. E per curiosità, a Monza, prendiamo sempre Monza come riferimento, quanto sei riuscito a girare? Quest'anno è un tempo che non è stato proprio molto veloce per quello che era la tipologia della vettura. Si pensava meglio, però uscendo così, con quel tipo di macchina così, è andata bene. È un buon tempo comunque, è stato comunque il tempo del giorno. Più o meno? Era attorno ai 55. Caspita, ha girato come me! Te l'ha detto per capire quanto è lento, perché... Esatto! Durante l'anno abbiamo visto che un grande team ti supporta. Grande, nel senso grande per l'aiuto che mi danno e piccolo per quello che siamo, perché siamo un team... Praticamente siamo io, Olivia, che comunque fa sempre parte, il meccanico, Sergio, e poi abbiamo sempre l'aiuto da parte anche di amici e appassionati, come ci segue molto, che è venuto anche al Mondiale con noi a aiutarci, Manuel Gadeschi, anche lui protagonista con la sua Subaru. Per cui siamo iniziati un team, un po' una famiglia, più che un team, sicuramente questo. Però i risultati poi parlano chiaro. Sì, sì. Bene, Chiara. Grandi informazioni proprio quelle che cercavamo. Esatto, a parte le informazioni, ma hai visto anche che piloti e che vetture partecipano in questa serie di Andrea Scorrano. Noi facciamo naturalmente i complimenti a Cersei Zeli. Naturalmente non ci scappare, perché avremo altre domande per te. Noi andiamo un attimino in pubblicità, tra poco ritorneremo ancora a parlarvi. Itaimatta Italia. Signori, benvenuti a bordo. Il viaggio può iniziare. Mettetevi comodo. Nini Virta. Velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta. Un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta. La prima azienda in Italia a utilizzare camion comportata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta. Da oltre 30 anni. Tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it Lo sapevi che l'olio lubrificante usato, se viene recuperato, diventa una risorsa preziosa? Se lo disperdi, si producono gravi danni all'ambiente. I 20 kg di olio usato estratti da un autocarro possono inquinare 4 campi di calcio. Se hai del lubrificante usato, chiamaci o consulta il sito. Cono, consorzio a oli usati. Raccogliamo l'olio usato fino all'ultima goccia. Numero verde 800 863 048. www.conou.it Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare, all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti, l'ebrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 CV e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni, www.iltuosogninpista.it Dopo questo breve break pubblicitario, riaccoci tornati in studio per parlarvi ancora di Time Attack Italia in versione 2019. Ebbene, sì Riccardo, infatti con noi ospite un altro protagonista della serie Time Attack Italia, Alan Simoni. Benvenuto. Eccoci. Grazie. Alan, benvenuto. Allora, dopo una grande annata hai chiuso in seconda posizione, ma come già anticipato all'inizio puntata, sei arrivato a pari punti. Sì, sì, giusto. Il regolamento ha definito, ha sancito questo risultato, anche se in effetti mi sono divertito tantissimo tutto il campionato, perché era un testa-testa, ogni gara una la vincevo io, una la vinceva Simone, quindi... Ricordiamo Simone Barri. Sì, che ha vinto la mia categoria. E è stato molto avvincente appunto per questo motivo, perché ce la siamo giocata fino all'ultimo. Una stagione che comunque ti ha visto vincere tre gare su sei. Sì, giusto, esattamente. Ho vinto Franciacorta, che non me l'aspettavo, e tra l'altro ho fatto un tempo che mi ha stupito proprio. E sono stato molto felice lì in quella circostanza. Diciamo che la mia vettura, per come è fatta, è penalizzata sui circuiti molto veloci. Quindi, diciamo, su quelli un po' più tortuosi e più corti, me la sono giocata meglio, ecco. Ecco, la stiamo vedendo qua, proprio, la tua vettura, Alan. Una Honda NSX, tutta rivista, naturalmente. Dove siete andati a lavorare, esattamente? Penso, dalla A alla Z, l'avete rivista? Beh, sì, come tutte le macchine da Time Attack, vengono, diciamo, spogliate completamente e ricostruite da zero. Noi abbiamo scelto di lavorare, ovviamente, sui pesi, che è la prima cosa. Quindi cercare di alleggerirlo il più possibile. Seguire il regolamento del Time Attack, ovviamente. E poi abbiamo deciso di adottare un kit aerodinamico in vetro resina, in questo caso, che è un Rocket Bunny, e poi accorgimenti sempre dedicati al motorsport per cercare di, appunto, avere il massimo della resa, ovviamente. Ho visto che doppietti? Eh sì, eh sì. È fondamentale, soprattutto col cambio manuale, perché nella mia categoria è previsto il cambio manuale non in sequenziale, e quindi è fondamentale fare punta-attacco in scalata, soprattutto. Non è da tutti, ecco. No, no, no. Io se ci provo dopo 30 secondi è un crampo. Io se ci provo incastro il piede sotto il treno. No, veramente, ti ho visto girare, ma così come Sers, veramente, ci sono fior fior di piloti nella tua categoria, Andrea. Decisamente. Andrea, possiamo proprio dire che nel tuo campionato i preparatori possono dare libero sfogo alle preparazioni. Sì, esattamente, esattamente. Ma è poi il motivo per cui esiste il Time Attack, no? La scoperta di nuove preparazioni per incrementare le performance, è proprio questo il Time Attack, no? L'hai descritto in poche parole. Poi noi l'abbiamo diviso in categorie, perché in Italia abbiamo un mercato particolare, una diversità di auto particolari per incentivare la partecipazione e la competitività, ma in realtà il motivo è quello, cioè proprio cercare la massima preparazione di una vettura derivata da serie. Ecco, per chi non conoscesse ancora il Time Attack Italia, vogliamo dire chi può partecipare innanzitutto e con quali vetture? Tutte le vetture esistenti possono partecipare di fatto con delle limitazioni. Abbiamo delle classi stradali aperte a tutti i tipi di vetture stradali, da, appunto, lo dicevo prima, la classe Clubman, che sarà la nuova classe con una fee di ingresso anche agevolata che comprende le vetture Sina 1800 aspirate, a tutte le altre vetture stradali si ritrovano in delle classi apposite. Questo per quanto riguarda lo stradale. Le classi racing, invece, devono essere vetture derivate da serie, racing, divise in categorie. Accettiamo qualche eccezione che ben si sposa in categoria di vetture GT2, GT3 o GT4, insomma, seconda della vettura che ci viene proposta. Quest'anno riproporremo che comunque sia farà solo classifica di classe e farà un'assoluta parte, che in realtà non è l'assoluta Time Attack, che a me è tutt'altro. Riproporremo la classe Prototipi, perché è una cosa che a me piace, mi piacciono tantissimo e mi piacerebbe riaverli. Quindi da quest'anno la riproponiamo e speriamo che cresca. Bene, l'anno scorso avete fatto quasi 100 piloti a gara. Sì, esattamente. Va sottolineato in un momento dove il motosport non naviga in acque proprio dolci. Sì, è sempre più difficile anche per noi, però cerchiamo di fare tutto il possibile per far sì che più persone possibili possano venire a correre, anche con poco. Bene, questo è il live motive che forse oggi ti differenzia rispetto a tanti altri. Torniamo a parlare un attimino con Alan Simoni. Naturalmente, come abbiamo visto, Alan Simoni non è presente solo nella serie Time Attack Italia come pilota, ma anche proprio come partner, ormai da tanti anni di questo campionato. Sì, esattamente. Da quando ho deciso di partecipare, di modificare la mia vettura per questo campionato, abbiamo deciso poi di partecipare anche come partner con l'azienda Simoni Racing, perché crediamo in questa disciplina e negli ultimi anni abbiamo visto che sta prendendo sempre più piede. Anche recentemente ho potuto notare a Las Vegas che al Simashow, che è una delle fiere principali, molte auto erano dedicate appunto al Time Attack. Quindi sta diventando importante sia a livello internazionale che nazionale e si sta espandendo sempre di più. Beh, questo sicuramente è un punto a favore sia per naturalmente quello che sta facendo Andrea, ma anche un po' per il tuo lavoro, che vogliamo ricordare di cosa ti occupi esattamente. Accessori per auto, quindi logicamente è un motivo in più che vogliamo appunto dire partecipando a questa serie che i nostri prodotti si possono utilizzare tranquillamente anche per il motorsport, oltre che per gli appassionati a livello assolutamente estetico e quant'altro. Bene. Ecco, per Alan Simoni quali programmi ci saranno per il 2019? Beh, adesso chiederò a Cerse se c'ha un angolino nel container per il mondiale, vedere se riusciamo. No, a parte gli scherzi ci concentriamo sicuramente sul campionato italiano per cercare di migliorare la vettura e le prestazioni ovviamente. e poi vediamo se riusciamo a partecipare anche a altri eventi, abbiamo già in programma anche altri eventi, sempre nell'ambito del motorsport e del JDM. Ecco, invece per... ecco, Chiara sei curiosa di sapere cosa farà Cerse e Zeli in questo 2019? Sì, non gli abbiamo ancora chiesto, quindi... Allora, beh, sicuramente il campionato italiano, che è il riferimento, servirà per portare avanti anche lo sviluppo della macchina, testare un po', beh, per andare in direzione Australia che quest'anno si cercherà di andare oltre mare. Magari anche qualche gara esterna, qualche gara europea, vediamo, in giro per l'Europa, vediamo. No, dipende un po' tutto l'impegno e il tempo che riusciamo a dedicare alla macchina. Questo è... Che tra l'altro anche tu, scusami, Chiara, lavori nel settore proprio delle preparazioni. Sì, probabilmente siamo specialisti in macchine giapponesi, in particolare Mitsubishi, Subaru, GTR, Nissan, tutte queste macchine qua, un po' esotiche, diciamo così. Per cui questa è la Mitsu, è la nostra passione, per cui la Evo per me non ha segreti da anni, da anni, da tanti anni. Abbiamo visto in questo 2018 che, insomma, la riesce a portare molto bene al limite. Quindi dalla Svizzera, quindi un campione straniero, eh, Andrea? Sì, sì, assolutamente. Poi non ha segreti, effettivamente, cioè, quando è iniziato il time-up, quella Evo lì era stradale. Arrivava con la sua macchinina, girava, poi se ne tornava a casa a te. Pensa che evoluzione, in realtà, in cinque anni. Cioè, negli altri paesi questa evoluzione c'è stata dopo quindici anni. E il time-up è che esiste da decine di anni, quindi stiamo correndo. Questa è una bellissima cosa. Da dove si inizierà a correre, Andrea, e quando? Allora, si inizierà al Mugello il 31 marzo. Abbiamo anticipato un po' l'ingresso, ma almeno finiremo un attimino prima, perché di solito, solitamente, il Mugello lo facevamo a novembre. Quindi la prima tappa sarà al Mugello il 31 marzo. La seconda tappa è prevista al Franciacorta il 5 maggio. Poi torneremo a Vallelunga il 7 luglio. Ad Adria il 14 settembre e Imola, speriamo tutti, visto tutto ciò che si sente su questo autodomo, e speriamo che si risolva, è prevista la finale il 27 ottobre. Quindi cinque appuntamenti. Sono previsti cinque appuntamenti, sì, esattamente. Le iscrizioni penso che siano aperte. Sono aperte, sono a buon punto. Siamo tanti, siamo tanti anche quest'anno, e sono contentissimo di questo. Anzi, ci sarà veramente poco posto. Quindi invito ad affrettarsi a che intenzione di partecipare, a prenotare la partecipazione. Alan Simoni, cosa si aspetta da questo 2019? Beh, senz'altro di portare a casa dei crono migliori, nel senso che sto sviluppando parecchio la vettura, a livello soprattutto aerodinamico. Ho cambiato completamente l'assetto, quindi ho migliorato anche l'inserimento della percorrenza in curva, e quindi mi aspetto soprattutto di avere risultati migliori in termini di tempo. Poi ci sono un po' di cambiamenti a livello di categorie, e vediamo cosa succederà, perché cambiano gli avversari, quindi cambierà un po' tutto. Quest'anno invece Sarsegeli avrà l'impegno di onorare il numero uno, eh? Sì. Cosa ti aspetti tu? Vediamo adesso gli altri partecipanti, speriamo che ci sia un po' più di bagarre in quel senso lì, di avere un po' di più quella voglia di correre e confrontarsi. Sicuramente ho bisogno di portare il potenziale al massimo della macchina, che al momento non è stato proprio sviluppato, ecco. È stato solo... è un inizio, è una nascita per la macchina ancora. Beh, insomma... Che nascita! Dopo la vittoria nel 2018, Sarsegeli non è ancora contento, quindi sicuramente darà battaglia a tutti. Che bella puntata, Chiara! Veramente, oggi abbiamo un po' parlato, naturalmente, di quello che ci sarà nel 2019 per il Time Attack Italia, ma abbiamo conosciuto anche i protagonisti veri di questa serie. Io andrei a ringraziare Andrea Scorrano. Grazie a voi. E buon 31 marzo, che non è molto lontano. Ci sono girati, ci sono rigirati, si rinizia. Esatto. Alan Simoni, grazie a voi, grazie mille veramente per la tua partecipazione e salutiamo il campione 2018, chissà se sarà ancora lui per il 2019, Sarsegeli. Grazie, grazie a voi, buona serata. Chiara, siamo in chiusura. Riccardo, con questo facciamo un grande in bocca al lupo ai nostri ospiti e saluti a tutti i nostri telespettatori. Io vi consiglio di non cambiare canale, di rimanere su queste frequenze, e grazie per averci seguito.